Ciao a tutti, allora come promesso nuovo video, questa volta però andremo a parlare di Luciano Spalletti che è ormai diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore dell'Inter. Oggi Spalletti era in aeroporto, è stato assalito da alcuni giornalisti ed ha dichiarato di essere comunque felice, di essere contento di essere diventato il nuovo allenatore dell'Inter. Nonostante questo comunque già su Facebook sono scoppiate le polemiche, le bufere perché ancora prima di vedere cosa questo allenatore produrrà nell'Inter già lo si sta ad additare, ad insultare, mamma mia, è appena arrivato e già state facendo tutto questo casino già ve la state a prendere con l'allenatore, mamma mia però come state messi, dai c'è ancora sto Cristiano adesso è arrivato, non gli avete neppure dato, cioè non gli date il tempo di fare nulla già lo cominciate ad insultare, ad additare. Allora, partiamo dal fatto che l'obiettivo dell'Inter per l'anno prossimo non è certo quello di andare a vincere lo scudetto cioè se voi pensate di andare a vincere lo scudetto l'anno prossimo allora siete ben lontani dalla realtà effettiva dei fatti perché l'obiettivo principale dell'Inter per l'anno prossimo è quello di arrivare nelle prime posizioni e di poter finalmente andare a giocare poi l'anno successivo la Champions League perché ormai voglio dire è quello di cui più abbiamo bisogno dato che anche quest'anno non andremo neppure a giocare in Europa League per cui l'obiettivo principale è quello di andare a giocare la Champions vi ricordo che la Roma di Spalletti quest'anno in classifica è arrivata seconda a soli 4 punti dalla Juve per cui secondo me per quello che è l'obiettivo dell'Inter quest'anno ovvero quello di andare poi a giocare in Europa la Champions Spalletti è l'uomo giusto ovviamente per carità divina anche io magari avrei preferito un allenatore come Conte o Simeone ma soprattutto Conte che ha sempre saputo gestirsi bene nelle varie situazioni nelle varie squadre che è andato ad allenare come Juve come nella Nazionale Italiana e come ha fatto anche quest'anno con il Chelsea lo reputo comunque un allenatore completo davvero ottimo per cui sì magari avrei anche preferito io un Conte a Spalletti però diamo il tempo a questo allenatore di impostare un gioco di creare sintonia cioè non stiamo subito ad additare comunque non è che Spalletti è l'ultima ruota del Carlo voglio dire è comunque un allenatore che sì non avrà vinto chissà cosa però comunque una squadra nelle prime posizioni te la fa portare per cui puntiamo a quello adesso tranquilli non state subito ad addita all'allenatore diamoli fiducia vediamo cosa farà vediamo anche un po' come andrà questo calce mercato chi prenderemo e chi invece no fatemi comunque sapere cosa ne pensate io sono fiduciosa dai bisogna comunque sperare che l'anno prossimo sia meglio di questo come ogni anno ormai e nulla fatemi un po' sapere quello che pensate se siete d'accordo se comunque Spalletti come allenatore vi piace oppure no e io vi do appuntamento al prossimo video